Siamo molto contenti, è la prima esperienza per noi come Borzoli e diciamo che l'afflusso di gente, le squadre, la partecipazione ci ha veramente reso orgogliosi di averlo fatto. Abbiamo avuto tante presenze, tanti coperti perché abbiamo potuto far mangiare tutte le squadre e i loro genitori e siamo molto contenti. Infatti noi ci teniamo a ringraziare tutte le squadre che hanno partecipato, a parte noi e il Borzoli che siamo di casa, abbiamo avuto con noi la Sestrese, il Vallestura, l'Atleti Club Liberi, la Levante Cipegliese, San Pieri d'Arena 1911 e ultimo, perché meno importante, ma tenevo la ciliegina per la fine, il Genoa. Però sì, tutti insieme qui nel teatro, una premiazione un po' particolare rispetto alle altre che vi racconto subito o lo vuoi sapere dopo? Subito. Non ci sarà un primo, un secondo, un terzo, un quarto come da classifica, peraltro la classifica c'è, ma le coppe verranno scelte dalla squadra, dal capitano della squadra, quindi coppa scelta, a scelta fra le otto messe a disposizione, ognuna per ogni squadra partecipante. E questo è un primo torneo che abbiamo deciso, giustamente, come dicevi, quasi per caso, per provare le nostre possibilità. E direi che come prima edizione è stato un successo, è stato un successo di partecipazione, sia da parte dei ragazzi che da parte dei genitori, lo staff tutto, abbiamo avuto molte persone che ci hanno aiutato, fra i genitori ringrazio molti volontari.